ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a vivi sezionare oggi è il brightling super ocean heritage 1957 è l'anno nel quale usciva il capostipite di questa generazione dei brightling super ocean negli anni 50 in una manciata di anni dal 53 al 60 uscirono tutta una serie di orologi che hanno fatto la storia blampan 50 fadoms rolex submariner omega seamaster e anche il nostro amico brightling super ocean era un periodo nel quale si iniziava a costruire orologi professionali che avevano bisogno di avere un'impermeabilità elevata per equipaggiare quasi sempre la richiesta nasceva dai corpi militari no e quindi erano orologi che poi dopo negli anni 60 inizio invece la fase del dell'immersione ricreativa quindi uscirono gli skin diver orologi anche un pochino meno meno pretenziosi a livello di professionalità e la storia poi si dipana fino ai giorni nostri il bright in super ocean è ancora oggi a catalogo di nel catalogo di brightling e con la sua forma particolare che vediamo oggi in questo video ora devo ringraziare la gioielleria pasquali domenici di viareggio che me lo ha messo a disposizione vi ricordo che è partner del canale concessionario ufficiale del marchio e tratta voi clienti che andate a trovarli anche che telefonate in una maniera eccellente a me mette a disposizione questi orologi come questo che mi è sempre passato sotto il naso e non ho mai preso lo spunto per prenderlo e portarlo a casa stranamente no poi a un certo punto mi sono detto ma io un diver brightling non l'ho mai testato provato toccato con mano portato a casa e fotografato mai assurdo ma è così e quindi mi sono finalmente deciso a prendere questo modello che tra l'altro è quello che rientra più nei miei gusti perché è 42 mm e con quadrante blu e col bracciale a maglia milanese che è libido perché esiste anche da 46 mm no che forse è un pochino adatto più alle persone audaci in ogni caso adesso vi faccio vedere l'orologino del giorno che è questo bellissimo squale heritage 1959 e rimaniamo in tema di orologi diver la data la dice lunga 1959 quindi anche squale faceva quelle bellissime quelle bellissime casse no anche per black punk finiti fados l'ottima squale faceva le casse ora detto questo giriamo la camera guardiamo l'orologio e poi ci ritroviamo qui come al solito per le considerazioni finali partiamo come sempre cercando conforto nei risultati della matematica diametro cassa 42 mm spessore 14.5 ingombro trasversale al polso 50 mm e interasse da 22 mm dimensioni che rientrano nella norma quando si parla di un diver contemporaneo come questo un orologio che riprende sì alcuni tratti classici del passato ma che non si può considerare stilisticamente ispirato al vintage almeno non in maniera così smaccata sul mio polso da 19 cm di circonferenza mostra tutta la sua presenza senza però risultare fuori luogo a me piace indossare sia orologi dal diametro contenuto che orologi di presenza e se si tratta di orologi sportivi come questo a prezzo i 42 mm come ad esempio il mio mega seamaster per intenderci stilisticamente parlando fa parte di quella categoria di divers nella quale la ghiera sporge leggermente rispetto alla cassa stiamo parlando di un'inezia 42 mm della ghiera contro il 41.5 della cassa ma è proprio quel dettaglio che poi caratterizza l'aspetto al polso ci sono orologi nei quali la ghiera è rientrante e altri nei quali è sporgente e la differenza al colpo d'occhio è notevole lascio a voi il decidere quale abbia più appeal per me è indifferente soprattutto varia da orologio ad orologio in ogni caso si tratta di una cassa dalla conformazione piuttosto standard si segnalano per particolarità visiva le ansie alquanto inclinate verso il basso un designer economico funzionale all'indossabilità e quei segmenti sporgenti che vanno ad inglobare la ghiera stessa come a volerla riparare allo stesso tempo tenere in posizione cosa chiaramente non corrispondente al vero in quanto la loro funzione è puramente estetica uno dei pochi dettagli legati al passato è sicuramente l'assenza delle spallette di protezione della corona una soluzione che la lascia esposta ad eventuali urti ma che ha preso sempre più piede nel design dei divers occorre anche dire che se dovete risentirà meno di eventuali urti accidentali ecco quello che mi sento di dire è che in caso di corona pressione in un orologio sportivo naturalmente è sempre meglio avere le spallette di protezione l'escursione laterale è sempre maggiore rispetto ad una a vite in ogni caso quell'impermeabilità dichiarata è pari a 20 atmosfere e a concorrere a questo dato contribuisce anche il fondello avvitato la cassa si tratta di un fondello chiuso e ho quindi deciso di non rimuovere le pellicole presenti anche perché ciò che si può vedere è molto spartano ed essenziale ma forse forse non ci dispiace neppure poi così tanto tra l'altro il meccanismo che equipaggia questo super ocean è un calibro di tutto rispetto si tratta del b20 movimento dichiarato di mani in fattura che altri non è che una versione del tudor mt 5612 frutto della collaborazione ormai esistente da anni tra le due case le differenze sostanziali sono le finiture e la spirale nel calibro tudor abbiamo una lavorazione simile sabbiata più moderna e contemporanea diciamo mentre nel b20 si è preferito optare per le classiche jantiquette de genève c'è poi la spirale che in entrambi è sì del tipo senza racchetta e quindi a regolazione inerziale ma con la sostanziale differenza che nel tudor è in silicio mentre nel brightling è in nivarox in ogni caso si tratta come detto di un calibro ottimamente realizzato e per giunta certificato kosk a livello di sensazione personale devo dire che è un piacere regolare l'orario e la data si percepisce un feeling di consistenza e di robustezza dei componenti ma giriamo l'orologio e diamo lo sguardo al lato a laddove in un diver la ghiera girevole rappresenta il primo punto di contatto visivo e lo sguardo viene subito catturato dalla lucentezza dell'inserto che infatti è in ceramica antigraffio un blu scuro nel quale i riferimenti temporali dei 5 minuti vengono rappresentati con delle semplici stanghette chiare niente numeri o indicazioni grafiche particolari è essenziale per quanto riguarda la rotazione a 120 scatti l'ho trovata senza infamia e senza lode insomma nulla di particolarmente eccitante da segnalare voglio invece deviare la vostra attenzione su di un particolare tecnico che potrebbe sfuggire ai più ossia quelle micro viti presenti sul bordo ghiera che hanno il compito di tenerla fissata in luogo del semplice inserimento a pressione sono sei posizionate ogni 10 minuti e praticamente invisibili ad occhio nudo sono quei particolari tecnici che mi scaldano il cuore e mi fanno apparire l'orologio come una macchina complessa a filo ghiera appunto parte poi il vetro zaffero antiriflesso che si estende verso il centro andando a formare una leggera cupola tanto poco accentuata da apparire quasi piatta ma è il quadrante a rappresentare da sempre il fulcro dell'estetica di un orologio e voilà qui troviamo un dial che si colloca in un ambito più elegante che professionale senza con questo voler sminuire l'utilizzo per cui è stato creato il quadrante blu a finitura soleil è già un chiaro indizio di dove si vuole andare a parare i riflessi di luce che si creano grazie ai solchi radiali è sempre piacevole da osservare e lo rende particolarmente sofisticato ma di per sé preso isolatamente non sarebbe ancora così caratterizzante se non che gli indici piuttosto che apparire ricoperti di super luminova come al solito sono realizzati in pieno stile classico dei segmenti metallici applicati in rilievo e lucidi l'effetto 3d si unisce allo scintillio del metallo per dar vita ad un connubio dai tratti sicuramente più classici che sportivi non preoccupatevi però in quanto in corrispondenza di ogni indice è presente un piccolo dot ricoperto di pigmento luminescente chiaramente la leggibilità in un quadrante di siffate caratteristiche non potrà mai essere paragonabile con quella ottenuta utilizzando gli indici super luminova ci accontenteremo facendo lo sforzo di inclinare un po col pulso per far brillare gli indici in metallo a dire il vero però ci sono poi le sfere principali che quelle si sono ricoperte di super luminova e ben localizzabili da qualsiasi posizione va da sé che riescono a compensare quella manchevolezza prima citata in generale si tratta di un quadrante nel quale tutto è perfettamente realizzato e ci mancherebbe nel quale gioca un ruolo fondamentale il posizionamento equilibrato degli elementi specie il datario ad ore 6 datario scritte e logo brightling formano una sorta di albero verticale che accentua la simmetria quest'ultimo è come al solito applicato in rilievo e dorato tipico esempio della finezza realizzativa di brightling qualcosa da ridire avrei invece sulla quantità delle scritte forse troppe apparentemente sembrano tutte necessarie ma forse la scritta ad ore 12 che evito intelligentemente di pronunciare si poteva riassumere con un semplice cronometer e semplificare un po' il tutto la semplicità viene fuori anche al buio in quanto sono solamente gli elementi essenziali a restituirci la luminescenza la possiamo infatti vedere solamente sulle sfere sui pallini della rio e sul lot ad ore 12 quest'ultimo è stato realizzato utilizzando un cilindretto metallico riempito di super luminova che viene poi incastonato nell'inserto ghiera altro tocco di classe non resta poi che dare uno sguardo al bracciale maglia milanese che da subito appare ben massiccio 4 mm di spessore in pratica come un bracciale standard un'altra cosa rispetto ai soliti bracciali economici che siamo abituati a vedere tra l'altro ci sono le ultime 5 maglie per parte completamente removibili e fissate tramite viti inoltre poi presente un sistema di regolazione fine nel quale piuttosto che utilizzare la scatoletta con i forellini a vista utilizza una spring bar interna che può essere spostata su ben sei posizioni circa l'equivalente di due maglie un bracciale di qualità e che accentua lo spirito glamour dell'orologio utilizzando però contenuti di sostanza possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali insomma alla fine della fiera si tratta di un orologio sportivo subacqueo ma con dei tratti stilistici classici un bel mix di elementi che gli consentono di emergere da tutta quella schiera di orologi diver un po uno simile all'altro sulla qualità costruttiva e sulle finiture c'è poco da dire sul calibro men che meno si tratta della famiglia che nissi no quei calibri realizzati da tudor punti deboli eclatanti io non ne ho trovati potremmo dire che forse il bracciale maglia milanese potrebbe essere scomodo di solito lo è però questo è un punto che ce lo potrà confermare solamente chi lo indosserà a lungo andare ecco magari su questa e vi ricordo anche che c'è la versione con cinturino in caociu quindi chi volesse avere un orologio un po più comodo può sempre puntare a quello che tra l'altro costa anche 300 euro di meno diciamo però già che siamo su questo tema magari un bracciale di quelli standard ben fatto come si deve non avrebbe guastato è secondo me io sapete sono un amante degli orologi braccialati ma con il bracciale quella maglie vere e magari l'avrei visto bene anche in quella configurazione lì a chi ha dato questo orologio beh a chi vuole intanto un diver un orologio subacchio al di fuori dei soliti noti che si discosta un po da quelli visti e rivisti oppure a chi desidera avere un bright ring in collezione e questo è l'orologio giusto perché dico così perché a me capita a volte di guardare dei marchi di io vorrei un orologio di quel marchio lì nella mia collezione e allora quindi uno inizia a scegliere quale vuole senza fare confronto con le marche esterne perché come nel mio caso io ho scelto il bright ring cronomat tra l'altro ora non volendo però sembrare un pochino no così è esagerato il prezzo non è nemmeno malaccio di questo orologio perché 5.450 euro quando il mio bright ring cronomat gmt ne costa 5.900 ed ha un calibro di fornitura un bel etta 28.93 qua a meno trovate un calibro più esclusivo fatto della famiglia che nissi e compagni no quindi cosa dire secondo me anche il prezzo poi magari con un po di sconto si prende ancora meno anche il prezzo per un calibro diciamo in house di architettura proprietaria della famiglia che nissi o perlomeno esclusivo e ci stanno tutti boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi sia piaciuto l'orologio e anche il video e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love